formaggi in villa cittadella è una rappresentanza di aziende di tutta italia mettono in mostra le loro diciamo specialità le loro eccellenze e addirittura prodotti in via distinzione credo che sia una manifestazione molto interessante per il pubblico per avere una cultura del mondo del formaggio per una conoscenza maggiore sono matteo del casificio monte grappa rappresentiamo questa eccellenza veneta del territorio che offre delle tipicità strepitose e siamo qui a formaggi in villa a presentare i nostri migliori prodotti fiore all'occhiello del casificio è il morlacco che è indiscusso se vogliamo dire così protagonista dal 2015 vincendo la medaglia d'oro da ben quella data in poi l'azienda è situata a crespano del grappa ora pieve del grappa è una bella azienda con un grandissimo spazio aziendale vale la pena anche in una giornata di metà settimana quando siete tranquilli e rilassati venirci a trovare i nostri prodotti sono tutti a chilometro zero latte certificato sono prodotti fatti veramente con amore per chi volesse contattarci il nostro sito internet www caseificio montegrappa.com vi aspettiamo è il nostro primo anno a formaggi in villa la fiera è molto carica di persone di standisti come noi con grandi proposte gastronomiche dalla parte del beverage fino a finire con la parte del food lo consiglio a tutti è una bellissima esperienza in queste bellissime giornate nella cittadina di cittadella è un'antica pasticceria di vercelli dal 1885 onorato al bisnonno del pasticcere alberto il mio socio di adesso noi facciamo tanti dolci ma lo zabaglione è un pezzo forte della casa uovo zucchero marsala senza glutine piace a tutti tutta la gente che passa lo assaggia entusiasta siamo qua per farci conoscere anche da queste parti perché lo zabaglione lo conoscono tutti questo proprio quello della nonna piace ai veneti come piace ai toscani agli emilianti piace a tutti quindi il tempo è bello una bella giornata l'azienda è a borgo vercelli in piemonte da più di cent'anni e della famiglia pollo sono anche degli lievitati con la gongorzola per l'evento con gongorzola e zabaglione con gongorzola e pere un panettone rettangolare che facciamo tutto l'anno chi vuole contattarci può trovarci sul sito www.onoratofollo.it io sono cason paolo uno dei titolari di casa cason produttori dal 57 di insaccati noi alleviamo i nostri maiali e li trasformiamo in insaccati sale e peper naturale qui siamo a made in malga una manifestazione bellissima dove possiamo far assaggiare e vendere i nostri prodotti soppresse classiche normali con aglio salami con l'aglio normali e quelli con la santoreggia una chicca è una specialità usando la santoreggia appunto una spezia dell'alto piano di asiago che ci dà un ragazzo che ha una malga che la coltiva e ci dà da secca potete venirci a trovare in azienda noi siamo di Sapietringù lì abbiamo l'allevamento laboratorio e punto vendita e chi vuole contattarci ci può trovare tranquillamente nel sito internet www.casacason.it o tutti i social facebook o instagram ciao 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 ciao